Ancora spari a Napoli, a luna del mattino, piazza Sanità è l'unico punto del rione dove c'è gente e lì si è sparato nel cuore della Napoli assediata dai clan. Messaggio chiaro contro qualcuno che però ufficialmente non risulta in zona. Un fantasma, 18 colpi sparati da due pistole, da un comando di quattro persone su due scooter, contro un solo appartamento che però risulta disabitato da tempo. Evidentemente non è così. E scontro aperto anche se nessuno sembra accorgersene. E questo l'allarme è lanciato da padre Alex Zanotelli. Stessa dinamica e stesso posto dove perse la vita Gianni Cesarano e dove venne ucciso il boss Pietro Esposito e ferito un innocente garzone di un bar. Stessa piazza è il cuore del rione. Si indaga su boss vecchi e nuovi e poi spunta la nuova pista. Resta infatti un piccolo gruppo di sopravvissuti ai diversi agguati, quello dei Sequino. Ma potrebbe essere anche una stesa di risposta al duplice omicidio di venerdì a Miano in cui ha perso la vita Domenico Sabatino. Ci vuole qualcosa di radicale, dice Alex Zanotelli, per salvare questo quartiere. Abbiamo chiesto le telecamere ma non funzionano. Non è accettabile che in piazza Van Vitelli o a Chiaia la legge viene rispettata ma non alla sanità. Sembrano due città diverse. Gli fa eco il vescovo di Nola nella sua omilia della Domenica. Dice nella nostra regione si continua a sparare, a versare sangue, ad attentare al territorio. Benemino De Palma dal pulpito di Pompei conclude come è difficile fuggire alla speranza in tempi difficili. Ma abbiamo bisogno della speranza, credenti e anche laici. Perché senza la speranza resta solo la disperazione o la speranza o il nulla.